... Pirati Prova ad andare il capitano, guarda per Nobu Frosinini Frosinini, out Frosinini Prova ad andare Simoncini, la palla lì per Pirati, Pirati Frosinini, Frosinini Palla che rimane lì Pirati Concarella pronta a ricevere il pallone Intercerta Pirati, Pirati, Pirati Prova a saltare l'uomo, perde il tempo Fermato, la palla ancora buona, Frosinini Frosinini Simoncini, Simoncini Prova ad andare lui, è attenzione al controvieto Due contro due, Pagnotta, Pagnotta Salta Yashi, Pagnotta Il tiro degli Poggi Shikama Frosinini Shikama, alza il ritmo il vieto Shikama, Shikama La gioca di Shikama Shikama Pirati, Pirati La tiene lì Punta all'uomo Pirati Prova il cross Fermato da Portarena Palla lì per Coppola Coppola si può girare Coppola 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 E una a una al vieto Ci pensa Coppola Le spalle è motivatissimo Il numero otto al vietano Pirati Pirati Shikama Ayashi Punta Pagnotta Ayashi Ayashi La palla lì per Coppola 1-2 Perfetto Ayashi 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 Mette giù Contro Pagnotta Uno contro uno Ayashi Se ne va Ayashi Palla che rimane lì Ancora nei suoi piedi Ayashi Ayashi La ricomincia Per Shikama Pirati Pirati Il cross in mezzo E buona Coppola 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 Frosinini Frosinini Continua la sua percussione Ed è Calcio di rigore Frosinini Contro Serafinelli Frosinini La para Serafinelli Un po' Egoista Luca Coppola Autore di due gol fantastici Partito Pagnotta Pagnotta Calcio di rigore Petti Concarella Concarella È fuori È fuori È fuori Coppola Contro Serafinelli Coppola Il paro di Luca Coppola Che bella partita Montagio Pagnotta Pagnotta La Peppa Grazie a tutti.